Ma quando vi immaginate i Ramster è ovvio che... Ecco qua, guardate che posto incaldevole, gotico, stranissimo, bellissimo. Stile, eh... Basta, basta con queste cose che arrivano solamente da vostra immaginazione. No, 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 basta in tutto. Noi salapove nel sottonegozio di profumi di Gnasi Anzianen, Gnasi Anzianen di Dusseldorf, tiene piccola taverna piena di pupazzi peluche, tutto bellosi, e noi facciamo prove lì dentro e diamo tante caresse, io a cruspe, cruspe, a me, cruspe, a Dio, io a cruspe. È bellissimo e basta con queste immagini della Germania cattiva, basta di questi spettacoli con tanto fuoco, lanciamo profumi di violetta e facciamo caresse anche a cane randagen. Rock TV, in onda su Sky, canale 718, e in free streaming su tutti i device su livestream.com slash rocktv slash live.